L'efficacia della macchina spara palloni Globus è soprattutto legata a due aspetti, quello della potenza e quello della precisione. Grazie alla potenza di questa macchina si può utilizzare sia nelle situazioni di battuta, sia nelle situazioni di difesa, per riprodurre colpi superiori anche a quelli che sono i colpi che vengono poi riproposti in partita. Per quel che riguarda la precisione, veramente millimetrica a volte, è importante perché ci permettono gli allenatori di lavorare con una grossa quantità e qualità di colpi che differentemente non si riescono a riprodurre durante l'allenamento. Quindi si riescono a fare tante ripetizioni, variando la potenza, sempre magari in determinate zone del campo su cui vogliamo insistere. Dal punto di vista tecnico, l'altro lato positivo, stiamo entrando proprio nel tecnico, è quello della non eccessiva usura dei palloni nella riproduzione del lavoro e anche il discorso della presenza di una batteria. È molto comodo perché all'interno di determinate palestre io dovrei girare con un filo, mentre delle volte in piccia e delle volte anche impossibile lavorarci. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS